Sono nato in Italia per caso, come tutti noi, però vivo in questo paese, soffro per questo paese, gioisco talora raramente per questo paese, mi arrabbio per questo paese, dunque vivo in questo paese e in qualche modo anche per questo paese. Gabriele Lavia vive così il suo essere italiano, è al meeting per la prima volta e risponde così alla provocazione che lancia il titolo di quest'anno. Vengo al meeting, mi hanno invitato, anche se sono un meetingaro non ortodosso, perché non ho il dono della fede, quindi vengo così e guardo con molto interesse, è per questo che non sono d'accordo col titolo, anche se il titolo avrebbe bisogno di una delucidazione profonda intorno a se stesso, che potrebbe anche voler dire che le forze che muovono la felicità dell'uomo sono le stesse forze che possono portare all'infelicità dell'uomo. Attore, regista, sceneggiatore di cinema e teatro è al meeting per partecipare al ciclo di incontri organizzati da Luciano Violante. Il racconto parte da alcune foto che ripercorrono la sua carriera di artista, i suoi lavori, siamo negli anni settanta. Quella era un'Italia molto diversa, spiega, al punto che è quasi impossibile raccontarla. Altre foto mostrano al pubblico performance sul palco, spettacoli, scampoli di recitazione. Ma cos'è il teatro? È ciò che ti guarda dentro mentre tu lo guardi, spiega Lavia. Teatro significa letteralmente luogo dello sguardo, della cultura. Sguardo che è salvezza, una porta aperta sul misterio.